Nel prossimo video che purtroppo ho difficoltà a mostrare graficamente sul computer per un difetto grafico del mio computer, comunque si vedono le fasi di Venere riprese probabilmente da una sonda che orbita intorno a Venere, quindi la ripresa è fatta sempre alla stessa distanza dal pianeta Venere e è per questo che nel video prossimo il disco di Venere non appare ingrandirsi o ridursi, perché la ripresa non è fatta dalla Terra ma è fatta una ripresa ravvicinata fatta da una sonda che si trova sempre alla stessa distanza da Venere. Inoltre in quella ripresa Venere sembra rimanere fermo perché la sonda sta inquadrando sempre Venere e sembra il Sole muoversi intorno a Venere e illuminarlo ora da un lato ora dall'altro. In realtà questo è il punto di vista di una sonda intorno a Venere ma noi sappiamo che in realtà non è il Sole che gira intorno a Venere e lo illumina ora da un lato ora dall'altro ma è Venere che gira intorno al Sole. Comunque dal punto di vista di Venere è il Sole che gli gira intorno e lo illumina ora da un lato ora dall'altro. Quindi adesso andate a vedere il prossimo video che purtroppo non posso mostrare per problemi di grafica.